Mattarellum c'è un'apertura da parte del Movimento 5 Stelle che però a differenza del Partito Democratico vuole fare la riforma e poi andare subito al voto. Sentiamo a questo proposito Alessio Villarosa. L'ideale sarebbe il Mattarellum che si può fare in due giorni, un giorno in commissione e un giorno alla Camera. Ma non perché conviene al Movimento 5 Stelle, anche perché come sapete bene è la legge che meno conviene al Movimento 5 Stelle se uno si deve mettere a fare dei conti di questo tipo e non dovrebbe farli. A noi interessa che la prima legge costituzionale venga immediatamente messa come clausola di salvaguardia e si vada al voto.